Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per lunedì 12 settembre. Ebbene, sarà bel tempo su gran parte dell'Italia, a parte qualche temporale sulle Alpi Occidentali, sui rilievi abruzzesi, sulla Puglia, sulla Calabria e sulla Sicilia. Ma farà ancora caldo su gran parte del centro-nord, soprattutto sul Veneto, Emilia, Toscana e Sardegna, dove le temperature massime potranno raggiungere valori di 32-34 gradi. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.